A Sagretario Nazionale della Finca Finistra Ottavio di Lugna, con la stima e la gratitudine dei lavoratori e delegati del Cilento Salerno, fiere di avere un figlio dei nostri territori nella Sagretaria Nazionale. Paolo Donato, delegato FGC, Comitato Finistra del Cilento Salerno, Peppe Marchesano, responsabile della Finca Finistra nel Cilento, sabi 17 agosto 2020. Benissimo, bene, dai, è meraviglioso. Vai.